Ciao a tutti ragazzi sono RandyWolf e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale Stiamo riprendendo full il regime di video Usciranno video tutta la settimana, 5 giorni di Clash Royale E nel weekend sabato e domenica vedrò se alternare Call of Duty Mobile con Brawl Stars O portare solo Call of Duty Mobile Comunque per chi fosse interessato al discorso Call of Duty Mobile Iscrivetevi su Telegram in privato o tramite direct di Instagram In descrizione trovate tutto, facciamo team, giochiamo insieme, non vi preoccupate Detto questo è da un po' che non gioco su questo account Per lo meno sono più che, per un po' intendo due giorni Ho fatto le 6.000 qualcosa, 6.030 con un record di 6.003 Poi ho troppato, non ho più giocato, ho giocato sul secondo account Ma iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche Soprattutto lasciate like e scrivetemi nei commenti qual è secondo voi la carta su cui costruire il deck Intanto ve lo spiegherò meglio andando in partita Perché vi sto chiedendo di scrivere una carta nei commenti Perché tramite il sito Deck Shop, che non mi sponsorizza, non mi paga, non vi preoccupate Voglio tirar fuori dai vostri commenti una carta E intorno alla carta che voi scriverete costruirci un deck che possa funzionare Quindi scrivetemi che carta utilizzare nei commenti Io spero di non failare, subito di riprendermi le 6.000 Che tra l'altro le ho perse già andando a giocare un deck totalmente da sfida Con Golem di Elisir livello 11, Guerritrice livello 12, eccetera, eccetera, eccetera Però vabbè, siamo qui per poterci riprendere le 6.000 Non dovrebbe arrivare il gigante Dai, un hit è arrivata, bene 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 Ora, partiamo con Il principe, il cavalliere nero Il principe nero Scortato dai pipistrelli Per poi andare a giocare subito il principe davanti Scusatemi, il gigante davanti al principe Ora, potrebbe arrivare qualcosa di molto brutto Visto che ha giocato il boss caiole a livello difensivo No, dai, drago, dovremmo riuscire a fare grossi danni Non vado a giocare Fireball Non vado a giocare Sgherri Non vado a giocare niente Mi vanno benissimo così i danni Tanto andrò a caricare con un principe per distrarre E poi andrò con gli Sgherri per eliminare il drago infernale In questo modo GG Drago infernale Uuuuh, mi sono dimenticato che c'aveva anche l'orda di scheletri Però dovremmo aver eliminato tutto Gli rimane soltanto il boscaiolo Non lo può giocare perché senza desider Lo gioca in ritardo Come avete visto E quindi ci siamo fatti la torre Senza neanche prendere danno alla nostra Quindi fino a qui Tutto bene E' anche vero che sto giocando veramente a livelli molto Ma molto bassi Dato che il reset stagionale Non è stato al 50% Ma solo al 25% E quindi sono partito da una soglia maggiore di trofei Non ha quittato, eh Non ha ancora quittato Non voglio giocare da Zab Non voglio giocare niente Perché tanto anche quella è torrefatta Va a giocare l'orda di scheletri Che si salva tra l'altro Però 946 punti vita Scusatemi, 646 punti vita Ora, lui ha il boscaiolo Non so cosa abbia come Eccolo qua, stagionale notturna Sto dicendo non so quale sia la carta nascosta Arriva la Zap Noi proviamo a ricaricare Non so se è un golem o qualcosa di particolarmente pesante Però sta di fatto che lo stiamo Eccolo qua il golem Sto dicendo sta di fatto che lo stiamo decisamente macinando Frecce per andare a eliminare tutto Ora lui ci può giocare Il Drago Inferno Noi andiamo a zapparlo in modo da fargli cambiare il target Il nostro gigante libero Di arrivare a torre Ora qui noi andiamo a giocarci la Fireball Precisa Ottima così Quindi Mancano 10 secondi in questo momento Non ce la farò mai a prendere le tre corone Però 2-0 Pulito pulito Vi ricordo che faremo tre partite E Poi chiaramente ci vedremo al prossimo video Non vi prendete il video di domani ragazzi Perché è succedata qualcosa di particolare Non vi voglio spoilerare niente Poi nel video successivo di mercoledì Ci saranno degli scontri in top Dovremmo aver fatto le 6.000 Se non sbaglio Non ho visto 5.998 Vabbè Come se fossero le 6.000 Ieri ho fatto le 5.999 Vabbè Devo riprendere il ritmo Per giocare un po' più alto Anche perché le 6.500 le vorrei fare Però Se dovessi fare le 6.500 È anche vero che a quest'ora Dovrei essere già sulle 6.300 6.400 Con una droppata potenziale Da poter fare Comunque Comunque Andiamo a giocarci anche i pipistrelli Tanto lui metterà qualcosa Eccolo qui Il boia La sua valchiria Dovremmo comunque Eliminarla Con L'aiuto della torre Lui Non so se andrà a giocare Il minatore Eccolo qua Il minatore Noi Andiamo a distrarre il tutto Con Il nostro I nostri sgherri Decimati totalmente Sotto i colpi Il boia Ho sbagliato il tempismo Devo essere sincero Ma qui la zappa Sto giro Non mi fotti Dovrebbe aver già la valchiria Eh Non si mette benissimo Potrei andare a giocare La fireball Il discorso è che Andrei troppo sotto Gli elisir Questo sarebbe un grossissimo danno Stavolta però difenderò In un modo migliore Visto che lui potrebbe partire Con il minatore E infatti Me la andrò a giocare In questo modo Per non far arrivare E il boia A torre Vabbè lui ci ha zappato la torre Qui arrivano i danni Occhia sta valchiria Occhia sta valchiria Occhia sta valchiria 1787 Ha gli scheritri Ha lo spirito di ghiaccio Infatti gioca Uuuuh Non glielo ha tirato Non me l'ha tirato E qui sono Danni gratuiti Danni veramente Veramente gratuiti Allora andiamo a far girare Sta valchiria che Ci sta veramente Scassando In modo da Andare a sto Ho sbagliato Il posizionamento Del gigante Ero convinto Di averlo fatto Alla perfezione E invece A quanto pare no Ora qui andrò Molto probabilmente A giocare una fireball Su quel boia E soprattutto Su quella valchiria In questo modo Perfetto Ok Arrivano Il suo minatore Ora qui sono nella merda Perché il boia Giustamente Mi ha fatto Gli sgherri Sto giocando Particolarmente male Quindi spero Assolutamente di vincere La partita Qui le frecce Dovrebbero farcela No Peccato 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 Dovevo giocare Con un timing Decisamente migliore Allora partirei Di Principe E gigante Per portarmi via Quella valchiria Soprattutto quel boia Arrivo alla Mongolfiera Io mi vado a giocare Gli sgherri In questo modo Non dovrebbe avere Nulla Quindi io posso Ripartire con Principe nero E Pipistrei Dall'altra parte Ha soltanto Lo spirito di ghiaccio Va a giocare il minatore A livello difensivo Ora devo assolutamente Pushare Sull'altra parte Dai dai Sgherro colpisci Vabbè dai C'è ancora la palla di fuoco Oddio Palla di fuoco Diciamo che forse Forse le frecce Sono tanto meglio Dalla palla di fuoco Anche a livello di elisir Comunque Ora dobbiamo assolutamente Mettere pressione A bath time Presumo che sia Tempo del bagno Tempo della doccia No shower Comunque qui Fireball Andiamo con Gli sgherri Da questa parte Con il gigante Nella sua lane Mongolfiera Non va a dittare E ora Si dovrebbe liberare Porca puttana C'ha anche la tornado Ma non basta la tornado Non basta la tornado Ora prepariamoci Ancora con i doppi principi Perché arriverà sicuramente Sia Il minatore Sia La Mongolfiera Noi possiamo fare Una cosa Del genere Vedremo Se riusciremo A cavarcela Arriva la zap Da parte sua Ma non basta E ora Una Non ho fatto in tempo A giocare le frecce Comunque Dovrebbe aver difeso Ma io posso andare A pushare In modo molto pesante In questo modo Qui vado a giocarmi La zap Qui vado a giocarmi I pipistrelli E Non gli faccio andare Il minatore a torre Quindi gg Partita vinta Andiamo a giocarci anche La fireball Il minatore ha preso torre Vabbè Giochiamoci la fireball Partita vinta Ho giocato malissimo Ragazzi Lo so Non mi insultate Nei commenti Però vabbè L'importante è portare a casa Il risultato Comunque Più 28 E a sto giro Le 6.000 Le abbiamo fatte Vi ricordo di inserire Nello shop Il codice Lonnie Che trovate qui sotto Se vorrete supportarmi E soprattutto Vabbè Cambio di lega Poco ci importa Soprattutto Iscrivetevi al canale Condiviate il video E scrivetemi Dopo aver lasciato like Nei commenti La carta da poter usare Per costruire un deck Che vi porterò sicuramente In un prossimo video Andiamo a fare la terza battaglia Di oggi Ci siamo Sì dai Ce la possiamo ancora fare Paradox Che mano Mano iniziale perfetta Proprio Bellissima Davvero davvero bellissima Io devo per forza Perdere un po' di elisir Ok Arriva la sua strega Qui Fireball zap Obbligate Obbligate Ce la siamo tolta di mezzo Assolutamente Intanto non guardate i capelli Perché in questa situazione Di coronavirus C'ho il boschetto Della fantasia In testa Ora potrebbe arrivare Un suo eventuale minatore Perché se no non avrebbe senso Giocare così I pipistrelli No infatti Arriva Il boscaiolo Noi andiamo a fermare Il tutto così E poi ripartiremo Con i pipistrelli Non ho la zappa Portata di mano Peccato Ma il nostro principe nero Dovrebbe bene o male Arrivare a Scherzavo Tantissimo scherzavo Qui devo andare a giocare Le frecce Per forza Per andare sia a limitare La vita del drago infernale Sia per eliminare Quelle loro dagli scheletri Quindi GG Ce l'abbiamo fatta Fino a qui Questa è la terza partita Se non sbaglio Già ho perso il conto Quindi Lui ha boscaiolo Strega Ora se io vado a giocare Il principe nero Lui molto probabilmente Mi andrà Scusatemi il principe normale Lui mi andrà a giocare strega Ma Lui me la gioca Comunque la strega Quindi io Sempre fireball zap Perché Uno Elimino la strega Due Sono danni gratuiti a torre Bella giocata Va bene Fosse in te Non l'avrei piazzata in quel modo La strega Ma GG per te Ora Andiamo a giocarcela In questo modo Per distogliere anche Quei pipistrelli Che potevano farci Del danno Però Male Io devo per forza Andarmela giocare in questo modo Arriva anche la gelo Qui io posso Zappare Ce la siamo Ben o male salvata Ora Io posso fare In questo modo E Andarmi a tenere Le frecce Uuuuh Prendi tutto Perfetto così Ci va a giocare la strega Poco importa Un colpo di principe Non riesce ad arrivare Quindi io devo pushare Devo per forza pushare Ragazzi Per forza Sta di fatto che comunque Ora lui non ha l'orda di scheletri Io ho L'eventuale Zapp Quindi Andiamo a caricare Tutto Ok Devo per forza Zappare qui Se no mi elimina Il gigante Cosa che comunque ha fatto Andiamo a sfruttarci Le frecce Per andare a eliminare Anche i pipistrelli Mi sono perso Il boscaiolo Ok Andiamo a giocarci I pipistrelli In questo modo In modo che se va a gelare Comunque Non ci fa troppo Del danno Ci va a giocare La palla di neve Comunque abbiamo ottenuto Ben o male botta Non sarà facile Lui potrebbe giocarci La strega No Ci va a giocare Lord di scheletri Quindi noi possiamo partire Con il principe La strega Ovviamente La vado A fare in Fireball La vado a fare in Fireball Non si può sentire Qui Zapp Non prenderò tutti i suoi pipistrelli Ma Por No Diopor Era inevitabile Stavo giocando male Stavo giocando male La sconfitta ci sta Ritorniamo a 5955 Nel prossimo video Giuro che mi impegnerò Un po' di più Vabbè Questo è quanto Ci vado con i piedi di piombo Inizierò a giocare Nettamente meglio Visto che ci devo riprendere Anche la mano Comunque Iscrivetevi al canale Se ancora siete iscritti Lasciate like Condiviate il video Iscrivetevi nei commenti La carta da autorizzare Nei prossimi deck Un bacione Ci vediamo domani Al prossimo video